Una nuova fatica letteraria, quella che Vincenzo De Angelis propone al vasto pubblico della Calabria. Un libro che ha come titolo un qualcosa di allusivo, ma è un romanzo storico attenente a una realtà ben precisa, Branca Leone. Il titolo del volume è, dal Vangelo secondo l'Andrangheta, un antico delitto. Ma chi è Vincenzo De Angelis? È uno studioso di casa nostra, un componente della deputazione di patria per la Calabria, ma che ha dato alle stampe libri importanti. Sfantasiando con il dialetto, con la prefazione di Ettore Bruni, un libro di poesie dialettari. Nello stesso tempo ha proposto la poesia di Vincenzo De Angelis, pioniere del socialismo in Calabria. Vincenzo De Angelis per La Ruffa, editore. Vincenzo De Angelis, Branca Leone, tra cronaca e storia, origini e le sue antiche vicende. Per Vincenzo Ursini, editore. Questo è un altro libro che riguarda la municipalità di Branca Leone. E poi, ecco qui, Mondo antico a Branca Leone per Calabria letteraria editrice, edita da Rubettino. Ed ancora Vincenzo De Angelis, il sole nel buio. Di conseguenza parliamo di uno studioso di casa nostra impegnato sul sociale e sul culturale. Oggi, con questa fatica, con questo romanzo, l'andrangheta dal Vangelo mutuato dalla stessa parola, prospetto un fatto verificatosi nel 1919 in quel di Branca Leone. Enzo, ma come mai l'andrangheta diventa oggi il punto di riferimento per questa tua fatica letteraria? Beh, diciamo che oggi parlare di andrangheta va di moda. Qua si ha il successo o no, a volte, se uno si mette contro o a favore dell'andrangheta. Quindi questa è una parola che spesso viene utilizzata nei giornali e sempre in primo piano. Ma io, con questo libro, che, come hai detto tu, è un romanzo storico, perché la mia base culturale è quella storica. Quindi io studio la storia e poi da ciò ne recavo il romanzo, cioè quello che viene d'importante. Quindi io mi sono messo a studiare un antico delitto avvenuto a Bruzzana nel 1919 e attraverso questo ho ricostruito tutto ciò che c'era. E effettivamente vi era una struttura dell'onorata società che è diversa da ciò che noi immaginiamo, perché spesso si immagina che l'onorata società o l'antica andrangheta, eccetera, era del basso popolo, era cosa contadina. Mentre invece questo libro dà proprio l'idea di una cosa diversa. L'onorata società non era solo il basso popolo, anzi, al contrario, erano i proprietari terrieri che per mantenere uno status quo costituivano questa organizzazione chiamata onorata società. Dal Vangelo secondo l'antrangheta, perché questa onorata società c'erano dei codici importanti che quei codici erano Vangelo, cioè ciò che c'era scritto doveva essere ben rispettato. Il libro nella sostanza poi è un giallo, è un giallo che ti porta a capire alcune cose e questo antico delitto ti l'ha commesso e come veniva commesso e il perché è stato commesso. Sta di fatto però, anche se si tratta di indrangheta, di onorata società, chiamiamola come vogliamo, un romanzo che si rispetta, deve pure porre una storia d'amore che può essere scabrosa, eccitante, sottilmente allusiva, ma un amore esiste nel romanzo? In effetti esiste un amore nel romanzo e proprio quell'amore che viene interrotto dall'omicidio, quindi le speranze di una giovane donna che pensava a un matrimonio, pensava a una famiglia, viene bruscamente rotto questo sogno a causa di questo omicidio, perché la persona assassinata era quello che lei aspirava per il domani. E quindi la società del malaffare, altro che onorata società, punisce spietatamente chi non segue quei canoni sui quali ha dato il proprio onore. Sì, possiamo dirla così, però io penso sempre al contesto sociale dell'epoca. Il contesto sociale dell'epoca era già un contesto molto crudo, era già un contesto crudo dove alcune cose che già poneva la società erano alquanto un po' terribili, un po' crude e quindi ciò che avveniva, avveniva attraverso anche la miseria, avveniva anche attraverso determinate situazioni di povertà, di mentalità, quindi era tutto un contesto sociale che metteva a repentaglio chi a volte cercava di vedere le cose in un altro modo. Quando si è rappresentato il romanzo? Il libro si è rappresentato la prima, sabato 3 ottobre alle ore 18, presso la biblioteca comunale di Brancaleone.